ciao oggi un nuovo video per quanto riguarda l'aggiornamento del progetto smaltimento maschere vi ho già appunto caricato all'interno del canale il primo video dove vi avevo fatto vedere tutte le maschere che volevo portare a termine e infatti anche in quel video vi ho detto che man mano che calavano un pochettino le maschere vi avrei fatto vedere a che punto sarei arrivata per poi introdurne di nuove ebbene sì ragazze ne ho finite tantissime ma veramente tantissime tant'è che all'interno di questo sacchettino che voi vi ricorderete era pieno ce ne sono pochissime quindi direi di iniziare subito allora vi faccio vedere quelle che mi sono rimaste e poi vi faccio vedere invece quelle che inseriremo all'interno di questo sacchettino per andare avanti nello smaltimento allora mi sono rimaste queste due del brand berrison allora questa qua che è la della linea animal mask alla mora da 25 ml e qua dice che la aspettate che mi trovo ecco è una maschera rivitalizzante in tessuto idrata le pelli spende e ruvide per un aspetto più sano e luminoso e ea veramente veramente la forma dell'animale cioè è bellissima ma sono veramente veramente belle io ho provato anche le altre di questa linea che appunto purtroppo non vedete qua perché appunto le ho terminate e poi le vedrete sicuramente all'interno di un video per quanto riguarda proprio le maschere terminate e tutte le altre mi sono piaciute tantissimo quindi non vedo l'ora di utilizzare anche questa qui come non vedo l'ora anche di utilizzare questa qui che mi ispira un sacco alla perla si aspettate che trovo l'italiano così vi dico allora si è una maschera in tessuto formulato con estratto di perla migliora la grana della pelle idratandola in profondità anche questa contiene 25 ml di prodotto e sono entrambe made in corea come sapete le maschere coreane sono quelle che fanno il boom se vogliamo dirla così vedremo appunto se anche queste qui mi piaceranno come le loro sorelline diciamo così e poi appunto vi farò sapere magari in un prossimo video delle maschere terminate se mi saranno piaciute o meno e poi mi è rimasta allora questa metà perché era un punto due di questa maschera per il viso di questo brand eccolo qua il brand è Soraya vedete ne ho due perché appunto questa qui era stata una di quelle che ho voluto provare per prima da 5 ml ogni bustina e devo dire che la prima che ho utilizzato mi è piaciuta molto mi ha dato proprio la sensazione di pelle liscia pelle morbida pelle idratata non l'ho sentita pesantita perché comunque una maschera in crema non è una maschera in tessuto mi è piaciuta veramente veramente tantissimo anche il giorno dopo non ho trovato magari la pelle non so magari un po unta un po spenta assolutamente no mi è piaciuta tantissimo e questa qui è al melone e poi ho appunto questa qua eccola qua eccola qua al come si chiama al mirtillo sì eccola qui anche questa sono 10 ml totale ma 5 ml ogni bustina e anche questa qui non vedo l'ora di provarla vediamo un po' se mi piacerà come quella lì al melone o meno vedremo un po' e come potete vedere ragazze la sacchetta è completamente vuota quindi tutto il restante delle maschere che c'erano prima sono riuscita a smaltirle quindi fatemi un grosso applauso perché sono riuscita a smaltire una marea di maschere è vero è vero è vero che c'è da dire che da gennaio fino ad adesso le ho smaltite poi ci sono state delle settimane che proprio per via della mancanza di tempo perché comunque veramente ho fatto un periodo lavoro in cui era già cara grazie se riuscivo a tornare a casa a dormire e a rilassarmi 5 minuti se già a dir tanto e quindi tante volte capite bene che non è che uno ha tutta sta voglia si fai la skin care però fai quella skin care veloce che dici poi ti infili nel letto e ciao tanti saluti quindi penso che capiate benissimo ecco la situazione però voglio assolutamente impegnarmi di più e infatti in quest'altro sacchettino qui quindi queste maschere verranno reinserite all'interno di questo sacchetto insieme a quelle lì e vi faccio vedere subito quali ho deciso di portare a termine quindi inserire all'interno di questo progetto allora date che perfetto allora iniziamo con my mask e so che è un brand che piace tantissimo a chiara pozzi se stai guardando questo video ti mando un bacione grosso tesoro perché tante volte le avevo mandate io queste maschere perché le piacciono tantissimo e quindi io ne avevo a casa forse due sì e ho voluto inserire una delle due per provarla e ho voluto inserire questa maschera viso esfoliante nutriente per tutti i tipi di pelle da 10 ml con nocciolo di albicocca e burro di karité è una maschera in crema sì componenti funzionali sì nocciolo di albicocca polvere di riso burro di karité vitamina e e c perfetto e non vedo l'ora di utilizzarla perché sono proprio curiosa visto che chiara ne parla talmente bene sono veramente curiosissima di testarla allora fatemi sapere se anche voi avete mai provato le maschere di my mask e se le avete provate quali sono le vostre preferite poi partiamo con la carrellata della brand montagne genesse allora sembra tanto la roba di una televendita questo questo sprint che ho avuto per presentare queste maschere comunque non fateci caso è un sacco che non registro quindi voglia di bilaterare un po' comunque abbiamo appunto la prima che è questa qui la charcoal detox bubble mask allora questa contiene non ci sono scritti gli ml no vero no non ci sono scritti niente da fare ok contiene appunto una bubble mask e io le amo le bubble mask mi piacciono da matti sono veramente le le mie preferite e allora dice vi dico la traduzione bolle bolle via sporcizia con la nostra maschera di pulizia profonda in tessuto infusa di ossigeno anice stellato e carbone a contatto con l'aria la maschera inizia a formare bolle e schiuma rimuovendo l'eccesso di sebo e l'impurità dai pori promuovendo una pelle luminosa e fresca ok fantastico quindi bisogna tenerla in posa dai 5 ai 10 minuti e poi toglierla e risciacquare il tutto io amo le bubble mask ne ho provate anche altre del brand forse berriesome e anche quella mi era piaciuta da matti perché ti dà proprio la sensazione di pulizia profonda cioè quando la tiri via e i lasciacqui senti proprio la pelle bella pulita leggera morbida fresca ti dà proprio quella sensazione di pulizia profonda e io la amo la amo veramente tantissimo non vedo l'ora di provare anche la bubble mask di questo brand poi due maschere sempre di montageness peel off però buonissime mi piacciono da matti perché vi dico buonissime perché io le avevo già provate queste qui sono diciamo le riconferme perché mi piacciono veramente tantissimo e ho voluto inserire questa qui al pink guava eccola qua da 10 ml di solito io questa confezione la faccio tutta cioè tutta intera perché ho paura che se magari poi ne lascio metà ho paura che la prossima volta magari si sia seccata essendo peel off sapete non è che mi fido moltissimo e quindi di solito io utilizzo proprio tutta la confezione e devo dire che è davvero buona veramente buonissima non fa fatica a tirarsi via non è aggressiva perché ho provato a dirvi la verità anche la maschera delle linee al carbone di equilibra ragazzi mamma mia sembra di tirare via lo scotch mi credete sembra come se vi scotchate la bocca o la faccia e quando la tirate via fa un male ma un male madonna no 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 assolutamente infatti sto bypassando cercando di aspettare a utilizzarla di nuovo perché veramente è una tortura mentre queste qui sono veramente molto delicate quando le togliete non vi fanno assolutamente male non vi lasciano la zona arrossata dopo che l'avete tirata via davvero davvero ottime davvero quindi questa qui e poi anche questa qui al cocomero che è una riconferma tra le riconferme perché è ottima ha un profumo buonissimo poi queste maschere hanno un profumo buonissimo ma davvero buono anche questa di 10 ml ottime ottime davvero poi tipo questa qui è rosa e questa qua invece sul verdino cioè vi divertite anche secondo me a fare la maschera c'è proprio un momento di coccola ma bello sai perché proprio ti lascia la pelle comunque bella fresca anche quando la metti su è buonissima davvero mi piacciono da matti da matti e poi ho voluto inserire anche questa qua che era già da un bel po' che ce l'avevo dalle scorte però non ho mai avuto l'input di utilizzarla però mi son detta dai tagliamo la testa al toro simo dobbiamo utilizzare queste maschere perché ne hai tantissime e se magari ci sono delle nuove uscite o così giustamente io mi dico non posso prendere delle maschere nuove perché devo finire quelle che ho e quindi ho voluto inserire anche questa qui la spa argilla rossa è un po' particolare in effetti come come maschera allora per opio ho una maschera è una maschera in tessuto da quello che vedo oh già pazzesca ragazzi io pensavo fosse in crema è una maschera in tessuto ma adoro allora dice trattamento spa all'argilla di terra rossa questo cremoso rivitalizzante conquisterà la tua pelle e i tuoi sensi devi lasciarla in posa 10-15 minuti massaggiare e risciacquare ma io adoro cioè pazzesca pazzesca no io non vedo l'ora di utilizzarla ragazze mamma mia quando la proverò vi farò sapere assolutamente cosa ne penso perché se è buona come sono le mie aspettative è finita proprio perché è finita davvero e almeno grano mamma mia wow si argilla rossa melo grano e cinnamon cannella mmm c'è dentro la cannella io non amo la cannella però vedremo un po' come sarà quindi anche questa inserita all'interno e poi ho voluto inserire queste tre qui che si trovano da Tigotà a parte che anche tutte le altre si trovano da Tigotà però certe non le trovate perché le avevo trovate da Klairs se non mi ricordo male per chi è della zona Klairs io lo trovo agli Orsiabiella al centro commerciale e ho voluto inserire allora questa qui con il micetto eccola qua al cetriolo e aloe è una maschera in tessuto allora dice idratate coccolate la vostra pelle con la nostra maschera gattino in tessuto cetriolo e aloe li rilassate per 5-10 minuti ok sono curiosissima di provarla per sì per avere per le pelli disidratate direi sì mamma mia non vedo l'ora di utilizzarla come non vedo l'ora di utilizzare anche questa qui con la tigre no con la mela e fragola mamma mia bellissimo porca miseria non vedo l'ora di utilizzarla è rivitalizzante e per le pelli stanche eccola qua e anche questa qui col panda con banana e cocco per le per idratante e sì idratante sì non vedo l'ora di utilizzare anche questa no cioè mi divertirò un sacco quando farò le maschere ve lo dico poi parlando appunto della linea carbone attivo di equilibra visto che con la maschera pilof lei mi sta piacendo tantissimo ha voluto inserire questa qui che è una maschera in tessuto della linea carbone attivo detox è una busta monodose con il 20% di aloe vera carbone vegetale estratto di scorso di limone senza parabeni siliconi petrolati e peg oli minerali e paraffina 10-15 minuti 97% di origine naturale vedremo un po' vediamo se questa qua sarà valida o meno vi farò sapere poi di garnier io avevo già utilizzato l'anno scorso mi sembra l'altra quella con il peck azzurro e ho voluto inserire questa qui non so se ve la ricordate questa questa linea che era quella che praticamente voi avete la maschera in tessuto qua sopra piegate il tutto e questo liquido che c'è qui sotto andrà direttamente all'interno di quest'altro pezzettino qui dove c'è appunto la maschera e l'altro devo dire che mi era piaciuto però era troppo idratante troppo 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 idratante troppo imbevuta di prodotto facevo una fatica boia ad assorbirsi il prodotto una volta che l'avevo tirata via mamma mia imbevutissima niente da dire ma tanto pesante e poi mi aveva fatto uscire qualche brufoletto a dirvi la verità e questa qui non vedo l'ora di provarla più che altro perché la vitamina C dà energia e illumina quindi ma chissà sono molto molto curiosa vedremo un po' queste qui non sono per niente economiche ve lo dico costano un po' sulle mi fare 4-5 euro quindi diciamo io l'ho voluta prendere per provarle vedremo come sarà questa qui vedremo un po' vi farò sapere poi del brand Mustus che si trova da Sephora ho voluto prendere questa maschera qua questa qua devo dirvi la verità ce l'avevo già da un bel po' è una maschera in tessuto allora una maschera facciale composta con estratti di cavolfiore cipolla ravanello pera e patata migliora la consistenza e ripristina l'equilibrio della pelle interessante è comunque purificante ecco sì bisogna lasciare agire 10-20 minuti scusatemi quindi sono molto molto curiosa fatemi sapere se voi avete mai provato questo brand se avete altre maschere di questo brand da consigliarmi scrivetemi tutto qui sotto nei commenti e poi dolci si infondo le ultime due maschere che ho voluto inserire sono queste due di Sephora sono quelle con il pec vecchio quindi deve essere la formulazione pecchia io ho anche quelle nella formulazione nuova che però non ho ancora provato queste qui nella formulazione vecchia mi sono piaciute da matti questa qui appunto la riconferma diciamo così perché avendo preso appunto quelle della formulazione nuova devo smaltire prima queste qui e ho voluto inserire questa qua all'ananas appunto per perfezionare la pelle sì perfetto questa qua e non vedo l'ora di riutilizzarla perché mi era piaciuta tantissimo c'è un buonissimo profumo di ananas poi io amo l'ananas e poi quest'altra qua invece all'uva eccola qua anti-inquinamento ecco protettrice anti-inquinamento eccola qua e anche questa non vedo l'ora di utilizzarla perché queste maschere di sefora sono veramente veramente valide fatemi sapere se anche voi le avete provate se avete provato queste qui vecchie se avete provato quelle della nuova formazione scrivetemi tutto qui sotto nei commenti bene ragazzi allora io ho concluso il mio video per quanto riguarda l'aggiornamento delle maschere quindi quelle che avevo fatto vedere nel video scorso e il rinserimento di nuove maschere non mi do tantissimo tempo nel senso forse magari fra un due mesi più o meno magari non mi do proprio un tempo preciso perché come mi dicevo prima ci ho messo già un po' a smaltire queste qua quindi voglio darmi proprio il tempo necessario cioè senza avere troppa pressione ecco bene io direi che con questo è tutto fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace così continuerò a farla molto volentieri perché così mi spronate voi ma mi sprono anch'io a continuare nello smaltimento delle maschere vi mando un bacione grandissimo e noi se vi va ci vediamo alla prossima ciao